Tutti lasciano nelle mani della società un ostaggio, una moglie, dei figli, una persona cara. Io non ho più nessuno, ecco perché quando sparo non ho più paura. Omicciali Fernando detto Ruspa è stato finito a bruciapelo e quando non aveva più possibilità di difendersi. È così che lei esegue il suo mandato? Domani dovrò sospenderla dall'incarico. Si troverà la giacca sempre più stretta signor questore e sempre meno uomini disposti a rischiare la vita per la difesa dei cittadini. Non è un bel modo di vivere. Già, ma è un bel modo per non morire. La società mi doveva qualcosa. Tutti questi anni di galera patiti per la più ingiusta delle colpe. Abbiamo già sbagliato una volta. Non lo lascerò vivo. So dove trovarlo. No, no, no! È lontano! Vi è qua, vi è, mi piace parlare, ah! Immagino tu sappia bene che io ero contrario al tuo reinserimento nella squadra. Ma c'è di mezzo Lettieri e la sua banda. Appena si sono accorti di essere in trappolo, hanno lasciato uscire uno stagio con la richiesta di un'auto veloce con il pieno di benzina. Ma famono affare. Tu diventi martire e io rivoluzionario. Io ero preparato a morire, loro no. Tu non puoi capire, prete. Io sparo anche per quelli come te, per salvarmi la coscienza. Finché sto nella polizia non posso avere i legami. Non te l'ho mai chiesto. Così perderò anche te. Lettieri, gira gira torniamo sempre a lui. Che posso fare a questo punto? Voglio 48 ore e la mia squadra. In nome della legge vi dichiaro in arresto.